Benvenuti amici sportivi a questo nuovo appuntamento con Zona Rosso Blu, come potete notare abbiamo cambiato location, ci troviamo appunto al MoMA di Santa Maria Capovetere, sito in Via Caduti di Nasseria, ovviamente ringraziamo il proprietario Luigi per averci ospitato in questa e anche nelle prossime puntate di Zona Rosso Blu che verranno Armando. Ciao Amelia, sì, hai detto proprio bene, un ringraziamento dunque al proprietario del MoMA gli amici del MoMA vi verrebbe da dire perché davvero si sono messi a disposizione ci fa piacere che hanno sposato il nostro progetto, abbiamo cambiato location ma Zona Rosso Blu come tante altre, esatto c'è la nostra Amelia ci sono io e poi ci sono i nostri ospiti. E l'ospite in studio, insomma è il caso di dirlo in questo momento, è il nostro Antonio Di Villo. Buonasera. Ciao Antonio come sempre ci aggiornerai sulle tue statistiche tra poco. Andiamo a parlare nello specifico dell'ultimo match disputato in casa appunto dai Falchetti, nemmeno contro l'ultima in classifica sono riusciti a conquistare tre punti che sarebbero potuti valere il secondo posto in classifica alle spalle della Torres vista l'occasione d'oro fornita dalla San Basilio uscita sorpresa sconfitta durante il match d'anticipo Di Nola, anche se espulso ha confermato la formazione per dieci undicesimi, esordio per Bonanno assente invece Gennaro Esposito della serie Armando squadra vincente non si cambia però purtroppo la vittoria non è arrivata il rammarico, la rabbia, la delusione è stata enorme domenica lo stesso Di Nola è stato costretto ad avere un faccio a faccio con i tifosi perché veramente i tifosi non hanno avuto neanche più la voglia di contestare una squadra che in casa non è tale dai numeri di Antonio è la peggiore squadra cioè è una delle peggiori formazioni una squadra che se giocasse tutte le partite in casa retrocederebbe in eccellenza è stato un qualcosa di assurdo quello che è successo ieri hanno perso con tre tiri in porta compreso il rigore quindi due tiri in porta più il rigore e non sono riusciti a recuperare adesso al di là degli errori singoli lo analizzeremo dalla Moviola purtroppo la casertana non ha under di qualità e ci dispiace per i ragazzi ma non sono in grado di resistere di sopportare una pressione così forte come può essere lo stadio pinto però l'alibi dello stadio pinto del terreno di gioco della pressione signori ma siamo arrivati alla ventesima giornata ma se dobbiamo perdere dieci partite per poi vincerle tutte in casa allora è meglio che facciamo primi 40 punti ormai nove punti Scott nel dopogara ha detto continuiamo a lottare perché il campionato è lungo poi magari ci sono i playoff però io dico pensiamo più che altro a costruire da oggi il futuro cambiare mentalità cambiamo mentalità perché in casa si costruiscono i campionati le vittorie c'è una squadra che perde sei partite e poi chiamerò in causa il nostro Antonio ma sei partite forse le ha perso il Civitavecchia e il Sant'Elia tra l'altro il Civitavecchia se non erro Armando non aveva mai conquistato punti in trasferta quindi questa è un'altra nota negativa comunque per un quadro più completo della situazione la partita è terminata per 2-3 e nulla sono appunto varsi gol di Varsi e di Martone insomma sesta sconfitta su 11 partite sono proprio tantissimo che si è sconfitti io ripeto non ho veramente non so che altro dire perché andiamoci a vedere i risultati poi continuiamo perché siamo ancora scossi appunto e poi commenteremo meglio Torres a Zachena 3-1 Casertana Civitavecchia 2-3 Isola Lili Sora 1-0 Sant'Elia Lupafrascati 1-2 Cinzia Ostiamare 3-0 San Basilio Porto Torres 0-4 era questa l'occasione di cui parlavamo prima Turis Sirianola 3-0 Anzio Laminio Sarnese 0-1 e Budonese Largius 0-1 la classifica vede al vertice ancora la Torres Solitaria a quota 45 la Sarnese torna di nuovo vice capolista a quota 39 segue il San Basilio a quota 38 Turis 37 al quinto posto a pari merito Casertana Lupafrascati a quota 36 Sora 33 Ostiamare 31 Arzaghena 28 Cinzia 27 Isola Lili 25 Budoni Porto Torres 24 Anzio Laminio 23 Sedar Giusti 22 Irianola e Civitavecchia penalizzata di un punto 16 e Sant'Elia nuovo fanalino di coda a quota 14 Bene Armando andiamoci a vedere a questo punto anche il servizio Casertana Civitavecchia Quella che doveva essere una tappa di avvicinamento alla vetta si è trasformata in una disfatta stessa sconfitta interna stagionale per una squadra che continua a farsi male da sola sorride invece il fanalino di coda che alimenta le speranze di agguantare almeno i play-out Di Nola ha squalificato al suo posto il vice scotto Gargiulo regolarmente in campo al fianco di Scognamiglio in avanti l'unica novità è l'esordio di Francesco Bonanno per il resto stessa formazione di sette giorni fa Nola Ferretti inserisce Severini al posto di Mereu arbitra agro di Terni poca gente sugli spalti in attesa di posizioni di classifica migliori Avvio di gara scoppiettante Corsale al quinto costringe Boccolini a rifugiarsi in corner poi due volte Toscano dal limite dell'aria pallone che sorvola la traversa con il passare dei minuti i laziali escono dal guscio e provano qualche sortita offensiva al primo vero tentativo trovano addirittura il gol Di Giacomo metta al centro dalla sinistra spina si coordina e pesca il gol del mese palla imparabile per Longobardi e 0-1 provocatoria l'esultanza del numero 8 che non attira certo le simpatie dei tifosi locali i falchetti non si scompongono e attaccano a testa bassa minuto 17 Varsi si incugna dalla sinistra e con un destro sul secondo palo riequilibria il punteggio a questo punto il match viaggia sul sottile filo dell'equilibrio venticinquesimo cross di Longo e Piscovo è più lesto a freddare l'estremo difensore tra lo stupore generale l'ultimo in classifica vince 2-1 al pinto palla al centro e riprende l'assedio campano Bonanno mira l'angolo basso ma Boccolini è attento Supremazia rosso-blu fino al 42esimo quando i laziali per poco non fanno autogoll sugli sviluppi di un angolo Bonanno in chiusura di tempo chiede un penalty non venendo però accontentato la ripresa è un incubo Cirillo dopo 4 minuti strattona platealmente Severini in aria rigore netto e di Giacomo non sbaglia 1-3 sul pinto cala il gelo si materializza lo spettro dell'ennesima figuraccia il colpo di testa di Martone rianima l'ambiente 2-3 al 55esimo ci sarebbe tempo per pareggiare e provare anche a vincere ma la casertana non ha né cuore né attributi Martone nuovamente per via aerea al settantesimo non inquadra lo specchio l'ultimo tentativo è di Varsi ma Boccolino impara in due tempi finisce con la gioia insperata di un Civitavecchia che riparte di slancio e la disperazione di una squadra che ha nuovamente illuso e deluso tutti a campo invertito la casertana ha perso rispetto all'andata l'andata riuscì a vincere 3-2 in rimonta domenica invece riuscita a perdere perché non è che ha vinto il Civitavecchia ha perso la casertana quando hai lasciato la tribuna Antonio come te centinaia di tifosi sconsolati delusi arrabbiati ti interpello come tifoso non tanto come esperto di numeri il tifoso adesso che cosa si aspetta? Armando tu l'hai detto prima i tifosi non hanno avuto nemmeno la voglia di contestare perché in effetti anche a me è capitato questo non c'era nemmeno la voglia di contestare perché prendere 3 gol da una squadra che ultima in classifica non aveva mai vinto in trasferta tra l'altro aveva segnato appena 4 gol in trasferta finora 4 punti conquistati fa molto male anche perché se andiamo a vedere Longobardi poi non ha fatto nemmeno una parata quindi significa che il Civitavecchia gli unici 3 tiri che ha fatto sono stati i 2 tiri e il calcio di rigore certo però sempre per colpa di alcune indecisioni difensive il rigore c'era per il Civitavecchia e stupitaggini infinita sì stupitaggini a non finire onestamente non me lo sarei ero venuto al Pinto ieri perché mi aspettavo veramente una squadra diversa pensavo veramente che ieri la Casertana fosse uscita con un punteggio piuttosto largo e in effetti i valori in campo si vedevano che la Casertana era nettamente più forte e lo dice lungo anche i 12 calci d'angolo che ha battuto la Casertana purtroppo il calcio è anche questo se la Casertana le altre gare precedenti le avesse vinte in casa probabilmente col Civitavecchia saremmo qui a dire ok è un'andata male ci può stare però è la sesta sconfitta consecutiva signori e dobbiamo fare un po' di mea culpa un po' e come dicevi tu prima è probabile che la società adesso inizi a costruire il futuro già da domani già da stasera e non aspettare a maggio perché anche i playoff onestamente io lo dico con molta onestà ma questa squadra con che spirito andrà a fare i playoff credo che non arrivi nemmeno alle fasi nazionali perché io ho notato altre squadre sto guardando anche le altre squadre degli altri gironi e onestamente ci sono squadre che almeno per carattere sono nettamente superiori hai usato una parola giusta carattere questa squadra purtroppo manca proprio di carattere ma non lo diciamo noi l'hanno detto tutti gli addetti lavori ma anche i dirigenti stessi quindi certamente Armando come diceva prima Antonio Di Lilla a proposito di mia culpa ci andiamo a sentire anche a questo punto le parole di Felice Scotto il vice che appunto gli era sostituito di Nola perché insomma squalificato andiamoci ad ascoltare l'intervista mister qualcuno di noi credeva ancora che avessimo avuto modo di poter raccorciare la classifica e magari raggiungere la Torres invece siamo ancora una volta a parlare qui di una casertana che delude al pinto sesta sconfitta a Casalinga addirittura contro un Civitavecchia che non ha mai vinto fuori casa e nelle gare esterne in totale aveva realizzato quattro reti e venuto qui ne ha realizzati ben tre sicuramente è paradossale non solo l'analisi precisa e attenta che tu hai fatto per quanto riguarda le realizzazioni del Civitavecchia ma è paradossale anche quelle che sono le nostre prestazioni perché nell'ultime tre quattro partite non avevamo subito forse tre tiri quindi avevamo subito un gol costora a tempo scaduto e in una situazione veramente paradossale che voi conoscete quindi su un fallo laterale da parte nostra oggi siamo riusciti a fare peggio abbiamo addirittura subito gol su un calcio d'angolo a nostro favore quindi veramente delle situazioni che ho difficoltà anche a spiegare perché veramente si parla di un qualcosa forse finto forse irreale ma comunque che invece ci sta attanagliando e noi semplicemente dobbiamo prendere le nostre responsabilità dobbiamo sicuramente assumerci tutti questi che sono le colpe di queste situazioni e guardarci negli occhi cercare di non buttare all'ortiche non solo quello che è il lavoro che abbiamo fatto noi settimanalmente sul campo ma soprattutto quello che è il lavoro che sta compiendo questa società una società forte una società comunque che sta mettendo nelle migliori condizioni questa città per ottenere qualcosa di importante e noi non possiamo con i nostri errori buttare via quelli che sono i loro sacrifici quindi sicuramente chiedo scusa da parte di tutti mi faccio portavoce sia forse troppo semplice dire al pubblico alla città di Caserta dai difosi a voi giornalisti a tutti coloro che hanno questa squadra nel cuore ma sicuramente chiedere scusa a questa che è la nostra società che sta facendo dei sacrifici delle situazioni veramente molto molto grosse per poter permetterci organici e un'organizzazione per puntare in alto nonostante il pessimismo che ci può attanagliare in questo momento vorrei insieme a voi ma soprattutto insieme poi ai ragazzi negli sfogliatoi fare un po' quadrato stare uniti e non gettare via tutto quello che può essere se c'è stato di buono fino in questo momento perché ripeto forse questa poteva essere una giornata di svolta una giornata che ci permetteva magari di avvicinarsi a quello che poteva essere un obiettivo primario è importante è vero nei numeri ci siamo allontanati nei numeri e forse nel morale ci troviamo adesso in una situazione quasi impossibile però non è solo quella la porta per accedere ad una promozione lo dico apertamente perché questo è un vocabolo è un obiettivo che deve stare fisso nella nostra mente quindi la promozione la possiamo raggiungere anche in un modo diverso e abbiamo tutte le carte regola per farlo abbiamo anche ora i numeri dalla nostra parte perché siamo nei playoff siamo a pochi punti dal secondo posto che è l'obiettivo principale per una squadra che vuole raggiungere almeno i playoff anche se vi ripeto forse il termine playoff è un po' per accontentarsi però in questo momento comunque è una situazione importante che noi dobbiamo tenere presente e non dobbiamo gettare via attraverso questi momenti di sconforto e questi errori che comunque stiamo commettendo anche queste eventualità ripeto siamo molto molto sottodilusi sconfortati non solo dalla sconfitta ma anche dalla prestazione non voglio assolutamente parlare di quella che è stata la direzione perché su questo ci saranno poi i modi in televisione ci saranno anche tanti giornalisti competenti che avranno modo di poter valutare delle situazioni che magari dal campo sono sembrate veramente assurde però forse quello è stato il male minore tutte le colpe sono nostre ce le assumiamo noi e cercheremo sicuramente oltre che moramente ripeto e lo voglio sottolineare chiediamo scusa a quelle che sono le componenti forti della società a quelle che sono i tifosi a voi giornalisti cercheremo di fare un quadrato tra di noi e fare un qualcosina di importante per quello che è il proseguo del campionato Bene rieccoci a proposito poi di un paio di episodi dubbi diciamo armano andiamo a vedere anche il servizio preparato dalla redazione sulla Moviora vediamolo Casertana Civitavecchia arbitra il signor Raffaele Agro di Terni diverse le immagini sottoposte alla nostra Ammoviola alcune decisioni che hanno lasciato quanto meno perplessi si parte con il rigore chiesto e non concesso al 44esimo del primo tempo su Bonanno Bonanno entra in contatto con un difensore del Civitavecchia come si evince dalle immagini il passaggio di Ruscio per Bonanno vedete che è finta poi il giocatore con la gamba destra aggancia il piede destro di Bonanno qui almeno c'erano gli estremi per un calcio di punizione al limite perché Bonanno aveva i piedi sulla linea dunque da regolamento vedete era forse addirittura qualche centimetro vedete qualche centimetro proprio fuori comunque non c'erano gli estremi per il rigore ma c'erano gli estremi assolutamente sì per un calcio di punizione dal limite qui invece è l'ingenuità di Cirillo prestazione veramente negativa per il numero 3 della Casertana numero 2 chiedo scusa della Casertana che al quinto del secondo tempo dopo essersi perso il diretto marcatore che era Severini lo atterra in maniera piuttosto plateale anche qui gli tira la maglia il fallo inizia prima vedete poi Severini si sente tirare l'arbitro non ha dubbi indica immediatamente il dischetto è un fallo veniale sia chiaro non è un fallo gravissimo però onestamente Severini vedete aveva perso il pallone che motivo c'era di tirare la maglia all'attaccante è un fallo che ha pagato molto molto caro la Casertana qui invece ci sono gli estremi per un non ci sono gli estremi per un rigore il rigore chiesto al dodicesimo da Palumbo vedete Palumbo entra in contatto ma veramente non viene toccato l'arbitro lo vedete nella parte centrale del vostro teleschermo era piazzato in ottima posizione il ventottesimo tantissime le proteste che poi fanno scaturire anche l'espulsione del dirigente accompagnatore Salomone le proteste con il pallone che vedete Boccolini se lo lascia sfuggire prima il pallone capita sul numero 5 Ciaffrei poi di Giacomo c'è indubbiamente guardate un tocco di mano qui ci sono veramente gli estremi di rigore questa era un'azione che poteva dare il calcio di rigore alla Casertana il pallone viene toccato da Ciaffrei e da Di Giacomo l'arbitro ha lasciato proseguire eppure l'arbitro era lì non ha giudicato evidentemente involontario questo doppio tocco di mano però qui c'erano gli estremi di rigore un rigore che avrebbe potuto regalare alla Casertana un punto però sinceramente vista la prova di Rosso Blu meglio perdere queste partite perché almeno si azzera tutto e si capisce che questa squadra difficilmente può puntare alla promozione diretta e questi erano gli episodi di Moviola una Moviola che riteniamo sia stata piuttosto chiarificatrice Antonio un rigore non dato a buon anno quello concesso su Severini ancora il doppio episodio di fallo di mano di Ciafrei e di Giacomo forse è un po' esagerato Gargiulo dicendo ci hanno tolto quattro rigori sono un po' esagerato non era non il discorso di quattro rigori la squadra forse anche con tre rigori non l'avrebbe vinta allora cominciamo col dire che l'arbitro non deve essere un alibi per qualsiasi squadra allora partiamo dall'azione di Bonanno il fallo su Bonanno c'era io ero al pinto e al momento anche io ho gridato che era rigore poi guardando le immagini mi sono reso conto che il fallo è avvenuto appena fuori dall'area quindi se doveva essere fischiato un fallo al massimo un calcio di punizione poi passando al calcio di rigore dato al Civitavecchia purtroppo è stata una stupidata del nostro under questo bisogna dirlo a onestà di cronaca si è bene ha fatto tre ma per onestà di cronaca è stato anche perché poi in quella in quell'azione ho visto quella palla che ballonzolava lì davanti nessuno esatto perché il giocatore poi è scivolato lui si è sentito quasi costretto è stato un gesto istantaneo lo ha strattonato per una frazione di secondo però poi alla fine gli ha dato il rigore c'era 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 perché infatti la strattonata c'è stata poi il doppio fallo di mani tra Ciafrei e Di Giacomo quello poteva essere anche fischiato però ripeto gli errori arbitrali in una partita ci stanno però non devono essere un alibi così come non doveva essere un alibi il campo così come non devono essere gli alibi qualsiasi altra cosa che non riguarda la partita perché comunque l'importante è la concretizzazione ovviamente io dico sempre questo se una squadra è forte vince sia con qualsiasi campo sia contro gli alibi sia con qualsiasi ostilità punto ben detto bene Armando a questo punto passerei anche a vedere un po' i gol quelli che sono stati i gol della Serie D ricordo che comunque sono state 25 le reti 5 di Vittorio in trasferta nessun pareggio ricordo le doppiette di Fanasca del Cinzia e di Carbone della Torres Armando alla vigilia del ventunesimo turno di campionato si profilava una classica giornata di ordinare amministrazione e invece ha riservato qualche sorpresa che ha scosso nuovamente la classifica a cominciare dal Palestrina che ha perso in casa contro il Porto Torres soccombendo per 4 a 0 le reti tutti nel secondo tempo al secondo Falchi sugli sviluppi di un corner al cinquantatresimo Frau sul rigore poi Rocambolesco gol di Floris e al novantesimo l'Adu non si ferma la capolista Torres che sconfigge in casa l'Arzachena per 3 a 1 vantaggio sassarese al trentaduesimo con Carboni su perfetto assist di Nuvoli raddoppio al quarantacinquesimo sempre ad opera di Carboni di testa poi nella ripresa Pulina in contropiede e infine il gol della bandiera siglato da Cappai al settantasettesimo vittoria schiacciante della Turris in casa contro del Nola dopo 20 secondi De Rosa ringrazia Vitale per il suggerimento 2 a 0 di La Carra con la difesa Brugnana in vacanza per l'ottantacinquesimo di Vitale che da centrocampo fa secco di Matteo vince il Lupo Frascati 2 a 1 sul campo del Sant'Elia i gol dei Romani portano la firma di Raffaello e Chiesa Pintus accorcia le distanze nel finale quando ormai però è troppo tardi altra sorpresa la sconfitta del Sola per 1 a 0 a Isola Liri il gol vittoria è di Poziello sul cacciolo di rigore con un altro penalty Sanna il Selargius e Spugna Budoni conquistando 3 preziosissimi punti in chiave salvezza questi erano i gol della giornata complimenti a Vitale della Turris un gol straordinario che ha meritato veramente la palma del gol del mese lasciamo da parte però i gol parliamo di numeri perché i numeri di gennaio ogni fine mese succede qualcosa a questa squadra ogni fine mese come se avessi un blocco mentale vediamo proprio nella schermata di gennaio Antonio qual è stato il rendimento non solo della Casertana al mese di gennaio come potete vedere dalla schermata in testa c'è l'ostiamare che nonostante la sconfitta di ieri per 3 a 0 contro il Cinzia Genzano è ancora in testa nel mese di gennaio appunto con 9 punti 3 vittorie e una sconfitta mentre la Casertana ha 7 punti 2 vittorie un pareggio e una sconfitta appunto quella di ieri in fondo alla classifica il progetto Sant'Elia che è l'unica squadra che nel mese di gennaio non ha conquistato nemmeno un punto e che insieme al Nola sono le due squadre che non hanno mai vinto in questo mese di gennaio tra l'altro come miglior attacco troviamo Lupalfascati e Torres con 8 reti fatte a testa mentre la miglior difesa è quella della Turris con una rete mentre per quanto riguarda invece l'andamento della Casertana con le squadre del Girone come potete vedere la Casertana ha avuto sempre la meglio con le squadre campane 4 gare giocate 4 vittorie mentre con le Laziali purtroppo il dato è davvero disastroso soprattutto in casa dove in 7 gare giocate una vittoria un pareggio e 5 sconfitte 8 gol fatti e 11 gol subiti mentre con le Sarde 6 gare giocate in totale 4 vittorie e 2 sconfitte numeri che fanno riflettere Antonio sinceramente ma d'altra parte a queste montagne russe questi saliscendi della Casertana ci siamo abituati peccato c'è rammarico perché una delle squadre più forti fuori casa poi in casa si perde in un bicchiere d'acqua vogliamo un attimo procedere con i marcatori procediamo con i marcatori velocemente al vertice della classifica c'è Tarallo della Sarnese che è appunto autore di un gol anche nella giornata di ieri ed è arrivato a quota 16 realizzazioni alle sue spalle Meloni della Torres fermo a quota 12 a quota 11 al terzo posto Borrozzo Palumbo Morbidelli e Cappai della Zachena che ha fatto un salto in avanti rispetto alla settimana scorsa a 10 realizzazioni a 10 realizzazioni troviamo Branicchi del Sora Amassoga dell'Anzio Lavigno e Sanna del Sedargius a quota 9 invece Farci Pippi Caboni Perrulli e Frao e Vitale Beh questi un po' i marcatori fino alla quinta posizione gli altri si sono un po' fermati e quindi Tarallo insomma in fuga in via di fuga Buon per lui Andiamoci a vedere col prossimo due e poi dobbiamo in chiusura ci sono altre qualche altra annotazione di Antonio Perfetto Armando quindi andiamo a vedere quella che sarà la prossima giornata di campionato ovvero la 22esima Soran Solavinio Sedargius Casertana Iria Nola Civitavecchia Porto Torres Isola Liri Sarnese Budoni Cinzia Sant'Elia Ostia Mare Torres Lupa Frascati San Basilio e Arzachena Turis E adesso chiudiamo con altri numeri di Antonio Di Lillo che ci avevi preparato Allora la classifica nel primo tempo e nel secondo tempo come potete vedere nel primo tempo la Sarnese avrebbe 40 punti in pratica questi sono i punti che avrebbero conquistate tutte le squadre nel caso in cui le gare fossero terminate alla fine dei primi 45 minuti e come potete vedere purtroppo la Casertana è penultima quindi un andamento non solo in casa disastroso ma anche per quanto riguarda i primi 45 minuti dove avrebbe conquistato soltanto 17 punti quindi praticamente in piena zona retrocessione per quanto riguarda invece la classifica dell'eventuale secondi tempi la Torres sarebbe in testa con 44 punti secondo posto la Casertana con 39 punti tra l'altro nel secondo tempo la Casertana avrebbe il migliore attacco del girone con 25 reti miglior difesa invece per la Turris con 8 reti ultima in classifica Irianola e progetto Sant'Elia con 17 punti bene Armando ci avviamo alla conclusione davvero di questa puntata di zona rossa blu di questa prima puntata dal MoMA di Santa Maria Capoveter bene quindi non ci resta che salutarci appunto Armando saluto te grazie a te Amelie a tutti i nostri tre spettatori e gli amici del MoMA staremo insieme fino a fine anno e ovviamente un ringraziamento al nostro Antonio di Lillo grazie a voi grazie Antonio e rinnoviamo l'appuntamento con i nostri spettatori la settimana prossima grazie a tutti